musica 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 stai vicino a me di nuovo? si, bella sta mappa la registro, questa la registro dai fai la intro io? si, dai no no è una parodia di Superman musica 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 è bella sta cosa rossa si, ti segnalano il video poi non te lo fanno più partire il video perchè ho messo la musichetta di Superman si maledetti questa è casa mia benvenuti ragazzi in un nuovo episodio di Minecraft Ita questa è la mia bad caverna dai, la tua bad caverna si perchè io ho una bad caverna geloso vero? geloso quindi la bad caverna vorrei fare di nuovo tutto il giro per prendere la cassa c'è un'altra cassa qui una cassa nascosta si, non trovate due, ce ne sono due una dietro lì sono tipo posso prendere finalmente i blocchi è stato da sempre il mio sogno prendere i blocchi che non posso prendere ah ho capito ingegnoso che ci avrebbe mai pensato? sono andato da uno psicologo per questo per i blocchi? eh si però sai era un villager quindi perchè era tutto il tempo uoh uoh pensavo mi stesse prendendo in giro allora l'ho ammazzato sai che ho trovato? cioè l'unica utilità dei villager che non avevo mai pensato che fossero utili cioè sotto qualsiasi punto di vista ma in realtà se gli dai la carne marcia quella che gli prendi uccidendo gli zombie oddio blu nuovo ti danno un bordello di roba oddio blu nuovo nuovo no 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 maledizione non è possibile io ti odio so che mi hai ucciso non sono stato io non ti credo non sono stato non ti credo veramente guarda tutto il lavoro il mio ponte non so devi vincerla non hai scuse almeno spezza no? si si ti sto guardando perchè sei così lento nel fare un ponte e poi chiudi l'acqua ogni 3 secondi? adesso l'hai chiusa di nuovo se cadi muori perchè sono cioppa cioppa nooo wow è è è passato un po' di tempo ti sta salutando quello lì si l'altro giocatore sei rimasti in due tu e quello in alto a sinistra vabbè sono molto più pro io beh certo si vede già dalla situazione in cui ti sei messo se riesci a risalire magari su ti chiude l'acqua io rido no devi saltare salta nell'altra acqua è la tua unica speranza appena mangiato la malattia no salta nell'altra acqua non si può come non si può non è troppo distante salta nell'altra acqua fidati non ce la faccio ma cosa non ce la fai? c'è il vuoto dall'alto vai più in alto che puoi e poi salta nell'altra acqua devi dire il tuo appiccio ti sta insultando ha scritto LEL RECORDING stiamo registrando PLEASE guarda che ammazzata però SAVE HIM io non ci credo che sei ancora vivo io sono ancora vivo non mi puoi ammazzare a me STILL ALIVE scrive sei ancora vivo certo siamo super eroi cosa credi? abbiamo fatto la scuola di super poteri noi sono batman si ce l'ho fatta look si hai visto che però? si ho visto ti ha chiuso l'acqua no ma io sono nell'altra mi sa che ti va a chiudere anche l'altra tra un attimo brigati lo so devi andare nell'altra ancora oddio oddio è luglio via si quella va bene acqua se non te la chiude va bene eh capirai vabbè ti salta addosso ti salta addosso cambia acqua allora non cambiarla oh nooo nooo porca mi sa non ci credo vabbè però ci stiamo avvicinando si si stiamo avvicinando al traguardo ci stiamo avvicinando ci stiamo avvicinando questa è la tipa bionda che sta saltando che sta rompendo le tina no no non sto saltando beh adesso no salta adesso tu sei caduto vero? si ma tu sono un genio è facile così eh sono in indovino mago derp iscrivetevi per più magie finello quanto ti buzza ariel ma non si possono dire queste cose no decisamente no uuu oddio ho preso un tizio oh 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 mam che takamura monella monella mi faccio una spada va così non muoio mi fai una spada e così mi trovi che non so che fare mi faccio mi faccio una spada mi faccio una spada devo sopravvivere oh mio dio oh mio dio brutta e verdura ma che cos'è brutta e verdura? brutta e verdura brutta e verdura ah brutta non frutta prugna e verdura se volete più prugne iscrivetevi questo canale si è dedicato solo alle prugne prugna gaming sei tu quello lassù dove? no io vedo un tizio pro io vedo un tizio pro nooo sotto l'armatura lo so lo so è quello che no no slalon slalon non mi beccherai mai con le tue palle di neve in questo momento vorrei averci le hack sei vivo? si sono vivo tu? si per il momento sto facendo una bella partita purtroppo la sembra veramente una situazione orribile nel senso ce ne sono due in mezzo che stanno prendendo tutta la roba no 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 mi ha ucciso mi ha ucciso mi ha ucciso non l'ho visto come però mi ha ucciso se vuoi vedere cosa faccio io non è che ho molto molte idee però sono dopo un quarto d'ora sono nel mezzo c'è un tizio lì eh attento mi ha visto arrivare attento blu dietro dietro il blu stanno anche facendo team dici? si prima glielo scrivo io si porca miseria la lava la lava la lava di là di là di là di là di là ne ho più di uno tranquillo c'è un tizio? c'è un tizio? sta salendo, sta salendo, sta salendo, sta salendo ma no si è glitchata la lava l'avevo messa no non è giusto l'avevo piazzata ed è sparita sei proprio scomparso ci hanno massacrato di botte e poi era un team sono proprio dei bulli due contro uno non ci fa bulli il report il report è nulla